Allora ragazzi, non posso urlare troppo perché sono le due di notte, sono appena rientrato dalla giornata di sabato di Games Week e devo editarre questo video perché ve lo devo fare a bere nella giornata di domenica, quindi oggi per voi che lo state guardando. L'episodio di oggi ragazzi segna ufficialmente la svolta di questa serie, quindi io voglio almeno 2000 like e poi durante l'episodio comunque capirete il perché. Io vi ringrazio per l'attenzione, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, sono Zanzo, bentornati sul mio canale e oggi siamo nel 36esimo episodio della serie principale di Minecraft. Allora ragazzi, oggi se ho programmato correttamente tutti i video è domenica, è l'ultimo giorno del Games Week, quindi per tutti quelli che vedranno questo video in ritardo probabilmente saranno venuti alla Games Week se sono della zona di Milano o Limitrofi e invece per gli altri che lo stanno vedendo ci saranno altre occasioni per vederci naturalmente. Nel precedente episodio ho failato di brutto effettivamente e mi avete fatto notare dove ho sbagliato nella farm di pesca. Allora, mi avete detto innanzitutto che ho sbagliato su questo repeater qua, dovevo impostarlo a tre tick, quindi uno, due, tre. Mi avete detto che il fail più grosso che ho fatto è stato che la trapdoor non doveva essere in legno, ma doveva essere... Io ho un'altra canna da pesca nell'inventario? No, tanto che ci sono non me la faccio. Doveva essere appunto in ferro. Quindi adesso andremo a sistemare la questione della farm per vedere se funziona, speriamo di sì, perché se no è una bella menata ragazzi e non saprei come svolgere la questione, cioè quindi come fare la farm nuova. Probabilmente ragazzi utilizzerò uno dei metodi che mi avete consigliato sotto ai commenti dell'episodio 35, però magari la faremo in un altro episodio. Nell'episodio di oggi se non funziona sta farm faremo qualcos'altro. Vado a piazzare la trapdoor, questa qua, in ferro. Allora, mi avete detto che devo utilizzare questa trapdoor qua, perché con l'altra non funziona. Quindi, adesso vediamo se il meccanismo deve essere ripreso a funzionare. Perfetto. Speriamo che, tipo, non l'abbiano già sistemato con la 1.10.2. Nel caso adesso non dovesse funzionare ragazzi... Ah ok, si è buggato, perfetto. Quindi era proprio la trapdoor e quel tick lì che... che mi sbagliava. Sembrerebbe che stia funzionando adesso, in teoria. Il problema era proprio la trapdoor e probabilmente anche il repeater impostato sul tick sbagliato. Quindi vi chiedo scusa ragazzi di sta cosa. E a sto punto provo a stare qua a FK, non so, 4 minuti, 5 minuti. E vediamo se riesco a pescare qualcosa. Allora ragazzi, mi stavo leggendo sul telefono un messaggio. Funziona ragazzi, ok. Ok, avete visto ragazzi? Ho pescato un pesce, quindi la farm fortunatamente funziona. Gli utilizzi sono scesi di poco, perfetto. E ho pescato un merlutz e un pesce palla. Ok, adesso ragazzi andiamo un attimo a sistemare. Cioè andiamo a sistemare, andiamo a dormire. Sistemiamo un attimo la farm a livello estetico. E poi devo andare a vedere... Mi avete scritto, tipo in un episodio, non mi ricordo quale. Che se non illumino la zona dove ci sono i villager, rischio che tipo si trasformino in zombie. Tipo mi sono preoccupato un botto. Spero di no, se vuoi essere sincero. Voglio andare a dare un'occhiata un attimo alla farm quella dei villageri. Perché ho il terrore... Dove sono qua le torce? Cioè ho il terrore che tipo mi siano desponati o comunque qualcuno trasformato in zombie. Come mi avevate scritto. Non so se me l'avete scritto per trollarmi o che cosa. Allora, saliamo qui all'incirca. Ok, ne ha su. Ma quanta gente c'è? Ma non sono dieci, sono molti di più. What the fuck? Ma si possono riprodurre sti robi? Mi hanno lasciato giù con le due torce lì così evitiamo che la gente nasca lì vicino. E soprattutto che si trasformino in zombie e quindi mi mandano a puttani. Ne basta solo uno che si trasforma in zombie e poi ce l'abbiamo nel deretano tutti quanti. Quindi lasciamo perdere. Adesso mi avevate detto di sistemare anche il piccone. Adesso non mi ricordo se servono tipo i diamanti per sistemarlo. Comunque andiamo a vedere. Poi non so nemmeno se mi basta tipo questi quattro livelli di esperienza per sistemarlo. Ok, costo dell'operazione 3, perfetto, perfetto. Abbiamo sistemato il piccone. Quindi a sto punto ragazzi io opterei, fa vedere se ho dell'altro cibo, ok. Per andare a fare un giro nel nether e vedere se abbiamo un po' più di fortuna rispetto ai precedenti episodi. E cerchiamo sta benedetta fortezza. Perché ragazzi in qualche modo dobbiamo andare avanti. Io le selle, ho bisogno delle selle. Nella fortezza speriamo di trovarne, speriamo di trovarne innanzitutto la fortezza. Se troviamo la fortezza speriamo di trovare le selle. Così almeno ragazzi possiamo andare in giro per il mondo. A vedere innanzitutto com'è fatto e cercando e proviamo anche a trovare qualcosa di utile per questa serie. Io adesso ragazzi tiro dritto per dritto. Non mi interessa, io tiro dritto per dritto e vediamo cosa trovo. Se trovo qualcosa, speriamo di sì. Speriamo dritto per dritto di qua. L'acqua non l'ho portata ragazzi perché è tanto inutile nel nether. C'è anche se piazzo l'acqua non fa nulla. Piazziamo giù, piazziamo giù. Eccolo lì, Gast. Dove sei? Fatte vedere. Fatte via Mortacci tu ha preso. Ok. Continuiamo dritti in perterriti ragazzi. Sperando di non incappare in posti troppo pericolosi. Qua shottiamo tutto ragazzi. Sembra di essere in creative con sto piccone nel nether. Madonna. Potentissimo. Spegni qua le fiamme. Non si sa mai. Proseguiamo dritti. Io sto cercando di allontanarmi il più possibile da dove siamo nati. Anche perché ragazzi se troviamo i blocchi nuovi possiamo iniziare ad utilizzarli. Ricopriamo sempre il quarzo. Ok. Cerchiamo di lasciare indietro il meno quarzo possibile perché tanto è lontano da casa. E quindi anche se... Però recuperiamo da soul sand che non ce l'abbiamo ancora. Stavo dicendo anche se non ho il piccone con fortuna. Comunque vicino a casa ho tanto quarzo. L'ho lasciato, non l'ho recuperato a posto. Vicino a casa, vicino a dove c'è il portale. C'è tanto quarzo quindi non l'ho recuperato a posta. E quindi nel momento in cui dovessimo tornare diciamo qua nel nether possiamo recuperare il quarzo direttamente da vicino a casa. Cascate di lava infinite. Facciamo così. Ok. Oh! È una fortezza questa qua! Madonna almeno ne ho neanche accorto! Porca buttana! Speriamo che sia una fortezza bella grossa e non di quelle minuscole del merda. C'è no mi incazzo. Lì ci facciamo una scala così. Poi belli anche questi materiali qua. Questi mattoni qua mi piacciono tantissimo. Ci facciamo una scala così e saliamo. Ok. Siamo arrivati qua alla fine. Quindi piazziamo un blocco qua e saliamo lateralmente. Ok. Dovrei essere arrivato in cima. In teoria. Siamo in una fortezza. Là c'è un dei blades. Qua c'è tutto chiuso. Giusto? Ok. Però prima. Teniamo tipo tutte le torce sulla destra. Così sappiamo dove siamo andati. Ok. Qua la fortezza in teoria dovrebbe finire. Mi sa. Qua la fortezza finisce però lasciamo le torce per far capire a noi stessi se in caso dovessimo tornare che siamo passati già da di qua. Ci facciamo il percorso qua laterale in modo che non ci rompe il cazzo la lava. Allora. Proseguiamo dritti di qua. Lasciamo le torce sulla destra. Abbiamo detto. Ok. Uno spawner di blades qua. Molto bene. Bene. Cerchiamo di metterlo. Tipo tappiamo tutto. Giriamo gli intorno così. Ok. Mi anvia. Usiamo l'arco. Un arco con potenza mi avrebbe fatto molto comodo. Però va bene anche così. Blaze road. Perfetto. Utilizziamo la testa ragazzi. Non andiamoci di ignoranza. Perfetto. Quindi abbiamo trovato la fortezza. E nello stesso momento siamo riusciti anche a trovare subito lo spawner. Di blades. Spawner di blades. Trovatelo. Teniamo così. Non lo distruggiamo ragazzi. Perché è molto importante lo spawner di blades. Di là vedo. Io ho del carbone e del legno. Molto bene. Vedete ragazzi che forse invece è bella grossa come fortezza. Adesso noi la percorriamo. Cerchiamo di scoprire più cose possibili. Però devo trovare tipo delle ceste o robe del genere. Non tutte robe chiuse. Wither skeleton. Lo uccidiamo con l'arco. Così lo teniamo a distanza. E non ci facciamo witherare. Perfetto. Mi dava la testa del wither subito al primo colpo. Ragazzi ero the god. Guardate sembra di essere in creativa. Allora prima di andare di qua. Torniamo un attimo indietro. E percorriamo questo viadotto qua sulla destra. che ho visto che portava in una di quelle zone dove tipo si espandono. Eccole. Iniziamo a trovare le ceste ragazzi. Sella, 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 sella. Ma vaffanculo i lingotti, gli acciarini. Che pa... No. Piazzali bene sulla destra. Ok. Cesta. Sella! E andiamo. Ho trovato la sella finalmente. Mamma mia ragazzi gigantesca sta roba. Madonna. Madonna ragazzi gigante sta cosa eh. Ricopriamo le verruche del nether. Così a casa poi volendo ci possiamo fare anche la farm. Così da avercele infinite. Allora qua dovremmo essere arrivati tipo alla fine. Ok. Là c'è un altro spawner. Non lo so. Comunque ragazzi è bella gigante sta... Sta fortezza. Finalmente c'è... Un po' di culo. Ci sono riusciti a trovare la fortezza. E Zanzo io ho scaricato la tua mappa e ci avevo messo un secondo a trovarla. Ok. Qua finisce quindi anche se saliamo di sopra finirà di sicuro ragazzi. Blocchi di ossidiana. What the fuck? Da quando si trova l'ossidiana nei... Comunque oh. Neanche un diamante eh. Ortacci loro. Mi riesco a capire se c'è un altro spawner lì. O se semplicemente sono nati per rompermi la minghia. Qua. Oddio. Oh i blocchi nuovi ragazzi. Eccoli là sotto. Scendiamo quindi. Una volta che abbiamo tutte le cose sulla sinistra capiamo da dove siamo arrivati. Qua ci siamo già passati. Qua. Ok. Lingotti di ferro. Fanno sempre comodo. È veramente gigante ragazzi. Allora devo decidere cosa lasciar giù. Queste qua in oro. Lasciamole giù. Tanto non sembra una minchia. Proviamo a scavare un attimino qua. Magari ci riuniamo da qualche altra parte. Ragazzi non potete capire quanto mi son cagato addosso. Madonna che cagetta che mi son preso. Oh finalmente i diamanti. Un'altra sella. Me le porto a casa tutte le selle ragazzi. Ho detto dai non trovo mai una fortezza. Adesso l'ho trovata. È gigante. E non riesco a girarmela tutta. Oddio. Ho tre wither skeleton. Uggiamo questa. Ecco mi ha witherato. Uila. Basta avvizzimento. Ok. Stiamo calmi. Tre wither skeleton. Cioè. Che sfiga. Però nessuno mi ha droppato una minchia di testa. Tutti che mi droppano le ossa e robe del genere. Ma la testa non me l'ha droppata nessuno. Nel frattempo ho finito le torce ragazzi. Per farvi capire quanto cazzo sto girando questa. No quanto sto girando questa fortezza. Altro diamante. Guarda ho un te selle. Siamo giù tutti gli acciarini. Piglia tutte le selle. Lingotti. Non scavo più attraverso lì ragazzi. Rischio ogni volta. Qua ho visto una chest. Due chest. Ah qua ci sono già passato. Ok sono arrivato da di là. Qua non c'è nulla. Qua a destra provo a scavare un attimino per vedere cosa c'è proprio. Mi ricollego praticamente alla zona iniziale. Io sono arrivato da qui. Perché le torce sono sulla sinistra. Ok io arrivo da qua. Prendiamoci sto quarzo. Tanto che è qua. Perfetto ragazzi. Questo trentaseiesimo episodio della serie principale di Minecraft termina qua. Finalmente siamo riusciti a trovare la fortezza. Nel prossimo episodio torneremo a casa. Prenderemo i cavalli. Quindi molto probabilmente costruiremo una stalla. E inizieremo a vagare per il mondo. Finalmente ragazzi. Non sapete che liberazione è stata per me trovare sta fortezza. L'ho trovata completamente random tra l'altro. Adesso devo ricordarmi solo come si torna a casa però. Una volta che trovo da dove sono salito è sempre dritto. Quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Quindi ragazzi per questo episodio dove finalmente ci siamo sbloccati. Abbiamo dato una svolta a questa serie. Voglio 2000 like. Per forza ragazzi. Lasciatemi un commento consigliandomi come continuare la serie. Abbiamo sistemato anche la farm da pesca. Adesso vedrò un attimo di farmare a FK qualcosa. Ma adesso le selle non sono più un problema. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo domani con un video bomba ragazzi. Mi raccomando non perdetevelo. Qui da Zanzetutto. Un bel saluto. E perla.